Buongiorno, sono Lia Ragusa, direzione medica di Presidio Policlinico Catania. Saluto i congressisti CITA ed a nome degli autori ho il piacere di presentarvi il lavoro Challenges and Clinical Use of Helmet-Derived NIV in COVID-19 Patients, un esempio di collaborazione con i colleghi americani sull'utilizzo più appropriato di questa metodica nell'insufficienza respiratoria acuta ipossiemica. Sebbene la maggior parte dell'infezione da SARS-CoV-2 causa sintomi molto lievi, circa il 5% dei pazienti sviluppa la sindrome da distresse respiratorio acuto, con alcuni casi che progrediscono verso la disfunzione a molti organi. È stato riportato che questa sindrome ha un rapporto di mortalità variabile tra 1 e 4%. La ventilazione non invasiva a pressione positiva, il cui cronimo NIV, consiste nella somministrazione di un supporto ventilatorio senza la necessità di ricorre all'intubazione. Disponiamo di modelli a maschera, cannula, casco. È un trattamento efficace, adatto ai pazienti con insufficienza respiratoria acuta da lieve a moderato ed è associato a riduzione della mortalità rispetto alla respirazione spontanea o alla ventilazione meccanica tramite tubo endotracheale. Le indicazioni e controindicazioni dell'infe sono già note agli operatori del settore. Devono sottostare dei criteri sia clinici che di laboratorio, ma soprattutto sono legate all'esperienza del medico che deve essere capace di percepire il progressivo miglioramento o peggioramento delle condizioni cliniche del malato. La CPAP è una metodica di esistenza respiratoria che consiste nell'applicazione di una pressione positiva o continua alle viere del paziente di respiro spontaneo durante tutto l'intero ciclo respiratorio. Il casco CPAP è un dispositivo monouso che viene utilizzato abitualmente nel nostro ospedale per il trattamento dei bambini con distresse respiratorio per evitare loro il ricovero in terapia intensiva quando possibile. Siamo stati interrogati dai colleghi americani sul tipo e modalità di utilizzo del casco come possibile il supporto respiratorio in pazienti COVID-19 nelle prime fasi di insufficienza respiratoria. I colleghi statunitensi avevano forse letto gli ABSAP del congresso SITA del 2017 o si sono fidati dell'esperienza clinica maturata presso la nostra azienda dei colleghi pediatri? Scherzi a parte, il motivo del loro interesse era conoscere la nostra esperienza e le valutazioni eseguite sul dispositivo per un uso a loro non noto. Il casco rappresenta un sistema di ventilazione chiusa a paziente a sveglio. Negli Stati Uniti ha autorizzato l'uso di questi dispositivi solo per il trattamento nelle camere per bari con intossicazione ad amnossio di carbonio. Le prime due ore di applicazione della CPAP con casco sono fondamentali per potersi rendere conto se la procedura che stiamo attuando potrà avere successo o sarà necessario regivolgersi al passo successivo dell'intubazione del malato. Il tipo di casco da non utilizzate per il quale avevamo già eseguito valutazione è, come potete ben vedere, molto più sofisticato del modello base utilizzato negli Stati Uniti. È costituito da un involucro cilindrico trasparente in PVC con un collare in silicone. È presente una valvola antisoffocamento e una cerniera tenuta pneumatica per permettere l'apertura. Dispone di due ingressi separati, ispirazione e ispirazione, numerosi accessi per cannula e tubi. È un dispositivo monopaziente ma può essere applicato in maniera continuativa per lunghi periodi di tempo. La caratteristica più importante... Grazie. Grazie. Grazie.